Il centro Ippico è dotato di una scuderia con oltre 30 cavalli quarter horse, clubhouse, tondino coperto, arena coperta 50x26 metri, area breeding, arena 30x50 metri. Le passeggiate con i nostri cavalli all'interno e fuori della tenuta sono il nostro forte. Le lezioni per i principianti con istruttori multilingue garantiscono competenza e sicurezza. A Castellare di Tonda alleviamo e addestriamo cavalli da reining e i nostri successi in Europa e negli Stati Uniti sono la nostra migliore presentazione. Hai sempre sognato una vacanza a cavallo? Magari una settimana? Fare vita da ranch? Partecipare alla doma dei puledri? Fare passeggiate in piena sicurezza con cavalli addestrati al lavoro? La nostra scuderia Castellare di Tonda Quarter Horses è tutto questo. Per i più piccoli e per i principianti si effettuano lezioni nel tondino o nell'arena coperta con istruttori multilingue. Per i weekend e le settimane a cavallo a Castellare di Tonda è disponibile l'offerta di mezza pensione. Grazie a tutti.